E ciao a tutti diavoletti! Oggi salutiamo Giovanna! Ciao Giovanna! Vinci? Ma cosa sta facendo Vinci su quel telefono? Oh, si sta comportando in un modo molto strano! Perché non mi parla? Vinci! Cosa? Cosa guarda su quel telefono? Ok, ma lasciate un mi piace in un secondo se volete iniziare questo video! Oh, lasciato! Ok, e commentate con un cuore viola! Eh sì, un cuore viola in cinque secondi! Cinque, quattro, tre, due, uno... Vinci? Perché non parli? Ok, secondo me Vinci mi sta nascondendo un segreto! Eh sì! Oh, cosa? Cosa guarda su quel telefono? Ok, adesso mi avvicino! Adesso mi avvicino! No! Non devo avvicinarmi? Non avvicinarti! Sto guardando qualcosa di molto spaventoso! Spaventoso? Sì, spaventoso! È la parola giusta! Spaventoso! Ok! Guarda, adesso te lo mostro! Tre, due, uno... Vinci, fammi vedere quello che stai vedendo! Guarda questo gatto! Diavoletti! Vinci sta guardando foto di Catnap! Esatto, guardalo! È il nuovo mostro di Poppy Playtime! Sì, è Catnap! E guarda quanto è grande! Eh sì, è gigante! È un gatto tutto viola, ma... Vinci, perché stai guardando queste foto? Io stavo cercando foto di gattini, Anto, e improvvisamente mi è uscito questo... Ah! Vinci! Ok, dai, basta, basta, dai! Non guardare più queste foto, non guardare più foto di... Catnap! Eh sì, non devi più guardare foto di Catnap! Vanto, ma secondo te Catnap esiste nella vita reale? Non lo so, Vinci! Non chiedermelo! Ok, dai, basta! A me piacerebbe molto incontrare Catnap, non credi? Cosa? Ripeti, Vinci, non ti ho sentito bene! A me piacerebbe moltissimo incontrare Catnap, a te no? No! Sarebbe un'esperienza bellissima, no? Vedere un gatto gigante, tutto viola, a me piacerebbe! Vinci, ma noi abbiamo già il nostro cagnolino! Lo so, il nostro cagnolino è molto carino, ma quel gatto è speciale! Io voglio vedere quelle foto! Diavoletti! Vinci si sta comportando in un modo molto strano! Sto guardando foto di Catnap e non capisco il motivo! Ok, oggi Vinci vuole proprio incontrare Catnap! Diavoletti, dobbiamo trovare una soluzione! Vinci vuole incontrare Catnap! Ok! Ah, diavoletti, sono Vinci! E sto continuando a guardare le foto di Catnap! Non credete anche voi che sia un gatto super raro e speciale? A me piace molto! Non capisco perché a Danto non piace così tanto! Cosa? Cosa è spuntato sulla tv? Avviciniamoci! È tutto, viola? E c'è una foto di Catnap gigante! Cosa dobbiamo avvicinarci? Avviciniamoci! C'è scritto qualcosa qui! Ciao Vinci! Esci un attimo fuori? Puntini, puntini, puntini! Cosa? È Catnap che mi parla! Mi sta parlando della tv! Ma non dirlo a Danto? Puntini, puntini, puntini! Diavoletti! Io sto spiando Vinci! Ma perché Catnap sta parlando con Vinci? Oh no! No! Non riesco a capire! Perché non dovrei dirlo a Danto? Eh sì! Questo messaggio mi ha detto esci un attimo fuori, ma non dirlo a Danto! Puntini, puntini, puntini! Quindi adesso la domanda è... Io, diavoletti! Dovrei uscire fuori? Esatto! Perché il messaggio ha detto esci un attimo fuori, ma... Non dobbiamo dirlo a Danto! Esatto! Dobbiamo tenere tutto questo un segreto! Io devo uscire un attimo fuori, ma senza dirlo a Danto! Magari, chissà, incontrerò Catnap! Non urliamo tanto perché Danto non è molto d'accordo! Eh no! Avete visto la sua faccia quando gli ho detto che voglio incontrare Catnap? Ve la metto qui! Oh, cosa devo... Catnap? Ah, Catnap sta ridendo! È in tv, guardate, è gigante! E sta ridendo! Ok? Cosa devo fare? Devo uscire fuori? Oh no! Catnap è nella nostra tv! E sta ridendo? No! Vinci! Non uscire qui fuori! Non farlo! Cosa? Guardate! Sta uscendo! Vinci! Non farlo! Non farlo! Sta uscendo qui fuori! Oh no! No, 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 no! Cosa succederà, diavoletti? Cosa succederà? Ah, ok, secondo voi dobbiamo andare a controllare? Chissà? Vinci! Secondo voi cosa è successo? Andiamo a controllare! Usciamo un attimo qui fuori di Vinci! Aiuto! Cosa? Lì ci sono i piedi di Vinci! Vinci? Oh no! Vinci ha gridato aiuto! Perché Vinci ha gridato aiuto? Ok, andiamo a controllare! 3, 2, 1... Cosa? Diavoletti? Lì c'è Cutnap? Ma perché lì c'è Cutnap? Oh no! Aspettate! Aspettate! Questo significa che adesso Vinci è Cutnap? Eh sì! Guardate! Oh no! Non avvicinarti! Cutnap non avvicinarti! Ehi tu Cutnap non avvicinarti! Oh no! Ah! No basta! La telecamera! La telecamera! Dobbiamo scappare! Diavoletti! Rientriamo subito dentro! Oh no 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 no! Perché? Perché l'ha fatto? Perché? Perché? Vinci non doveva uscire! Non doveva! Oh no! Ho perso per sempre Vinci! Vinci! Adesso Vinci è Cutnap! È Cutnap! Devo trovare una soluzione! Ok! Secondo me devo andare a parlare con Vinci! Eh sì! Secondo me mi ascolterà! Apriamo la porta e calmiamoci! Dai calma calma! Eh... Ok! Guardate! È lì! Si sta avvicinando! Ciao Vinci Cutnap! Mi riconosci? Sono Anto! Ciao Vinci! Dai sono Anto! Mi riconosci? Vinci vieni qui! Oh no! No no no! Eh... Diavoletti! Si sta arrabbiando! Si sta arrabbiando! Secondo me devo scappare! No! No! Diavoletti! Andiamo via! Andiamo via! Vinci Cutnap! Non mi riconosce più! Ho perso per sempre! Vinci! Devo rientrare! Oppure? Oh! Potrebbe mangiarmi! Eh sì! Vinci Cutnap potrebbe mangiarmi! Dov'è adesso? Diavoletti? Dov'è Vinci Cutnap? Dov'è Vinci Cutnap? No! No! Non è qui! Ok! Potrebbe essere anche dietro di me! Potrebbe essere dappertutto! Controlliamo! Controlliamo! Cosa? Diavoletti! Dobbiamo controllare tutta la casa! Perché Vinci Cutnap non è più lì fuori! Andiamo a controllare! Ok! Vedete Vinci Cutnap? No! Vinci Cutnap non è qui! Oh! Neanche su questo divano! No! Da nessuna parte! Vinci Cutnap! Dove sei? Dove sei? Oh no! Vinci Cutnap vuole mangiarmi! Vuole mangiarmi! Perché non mi riconosce! Non mi riconosce! Oh! Secondo me Vinci Cutnap è nella nostra stanza da letto! Oh! No! Diavoletti! Non c'è nessuno sul nostro letto! Ok! Oh! Oh no! Forse sotto quel cuscino? Controlliamo! Controlliamo! 3, 2, 1... Oh! No! Non c'è niente! Ok! Devo controllare attentamente! Devo controllare attentamente! Oh! No! Non è neanche in bagno! Vinci Cutnap non sta facendo i suoi bisogni! Ok! Cosa? Oh no! Sto iniziando a piangere perché Vinci non c'è più! Adesso è Cutnap! Eh sì! È Cutnap! Oh no! Oh no! Cosa? No! Diavoletti! Chi ha messo la foto di Cutnap qui? Cutnap! Basta seguirci! Cosa? È proprio una foto di Cutnap! Guardate! È una foto di Cutnap! Ok! Seguiamo questa foto! Vediamo dove ci porta! Ok! Sto seguendo la foto di Cutnap! Un'altra foto! Diavoletti! Un'altra foto di Cutnap! Ok! Vediamo dove ci porta! Cutnap! Basta farci scherzi! Ok! E se ci fosse Vinci Cutnap qui fuori? Ok! La foto mi porta proprio qui fuori, diavoletti! In tal caso faccio un tuffo in piscina! Tanto ai gatti non piace l'acqua! Ok! Diavoletti! Dobbiamo controllare attentamente se c'è Vinci Cutnap! No no no! Vinci Cutnap non è! Qui in casa? Diavoletti! Ma che cos'è? Sembra essere una scatola! Eh sì! Questa è una foto molto rara di Cutnap! Nella vita reale! Eh sì! È Cutnap nella vita reale! Guardate! È un gatto viola! Ok! Ok, diavoletti! Dovrei aprire questa scatola misteriosa di Cutnap! Abbiamo appena trovato una scatola misteriosa di Cutnap! Dai, apriamo questa scatola! Cosa? Ho aperto la scatola e... Ci sono dei messaggi? Diavoletti! Ok! Cutnap ha dei messaggi per me! E adesso dobbiamo leggerli! Dobbiamo riportare! Vinci nella sua forma umana! Ora Vinci è Cutnap? Lo so! È inutile ripeterlo! Ora Vinci è proprio Cutnap! Per salvare Vinci dovrai superare delle sfide? Sfide? Sarà super difficile! Sarà difficilissimo! Restate con me, diavoletti! Cosa? Se le superi, Vinci tornerà un essere umano? Ok! Diavoletti! Se vogliamo salvare Vinci... Cutnap! Guardate! Vinci Cutnap è proprio lì! Vinci Cutnap! Ciao! Ok! Adesso non c'è più! Chissà dov'è adesso? Era proprio qui! Se vogliamo far tornare Vinci un essere umano... Dobbiamo superare delle sfide! E la prima sfida è... Uno! Mangia tre cibi viola? Io? Ok, diavoletti! Io, Anto, dovrei mangiare tre cibi viola? Oh! È una sfida molto... Golosa! Eh sì! Devo mangiare uno, due, tre... Tre cibi viola! Dai! Andiamo! Se vogliamo salvare Vinci... Dobbiamo fare di tutto! Ok! È arrivato il momento della sfida... Del cibo! Viola! Devo mangiare tre cibi viola... Per superare la sfida! Se vogliamo salvare Vinci Cutnap... Io farò di tutto! Di tutto! Avete capito bene! E adesso io mangerò una ciambella tutta viola... Eh sì! Guardate! È una ciambella ed è tutta viola! Dai! Mangiamo subito questa ciambella! Diavoletti, sbrighiamoci! Molto buona! Ok! Vediamoci! Dai! Ancora un po'! Dobbiamo fare di tutto per salvare Vinci! Manca l'ultimo pezzettino! Ho mangiato? Sì! Ho mangiato il mio primo cibo viola! Oh! Cos'è questo suono? Evviva! Ho mangiato il mio primo cibo viola! Adesso quale sarà il secondo? Era una ciambella squisita! Questo è il mio secondo cibo viola? Guardate! Sono dei conigli marshmallow! Ma sono tutti viola! Wow! Sono bellissimi! E sono tutti viola! Wow! Sono stupendi! Ok! Prendiamo questi marshmallow conigli viola! E... Mangiamoli! Ok! Sono marshmallow! Guardate! Ok! Dai! Sbrighiamoci! Dai! Guardate che carino! Eh sì? Guardate! Ok! Dai! Tutto per salvare Vinci! Ok! Ce l'ho fatta! Evviva! Diaboletti! Ho finito tutti i marshmallow! Questo è il mio secondo cibo viola? Dai! Sbrighiamoci! Oh no! Sta iniziando a farmi male la pancia! E Vinci Cutnap mi sta spiando! Guardate! Sì! Mi sta spiando! Ciao Vinci Cutnap! Che ansia! Oh! Dove vai? Ma perché scappa sempre? Ok! Noi dobbiamo mangiare l'ultimo cibo viola! E supereremo la nostra prima sfida! Oh! Sono degli orsetti! E sono tutti viola! Caramelle! Dai! Che le caramelle sono buonissime! Oh! Dai! Mangiamo tutti... Tutti gli orsetti! Dai! Mancano gli ultimi due! Ok! Dai! L'ultimo! Cosa? Ho mangiato? L'ultimo piatto di cibo viola? Evviva! Wow! Devo ammettere che quel cibo viola era molto raro! Ok diavoletti! Noi dobbiamo fare molta attenzione! Perché Vinci Cutnap potrebbe essere nei dintorni! Oh! Che ansia! Che ansia! Ok! Noi dobbiamo superare tutte le sfide! E Vinci tornerà un essere umano! Ok! Dobbiamo! Dobbiamo ancora leggere quei fogli! Ok! Cosa? Oh no! C'è una seconda sfida! Diavoletti restate con me perché ho veramente molta paura! Io mi tuffo in piscina! Se vedo Vinci Cutnap! Ok! Due! Trova la foto segreta di Cutnap! Una foto segreta? Diavoletti! Adesso sono curioso! Una foto segreta? Ok! Ok! Quindi quel gatto viola? Nasconde una foto segreta? Dobbiamo trovarla? Non vedo l'ora di vedere la foto segreta di Cutnap! Andiamo! Oh! Cosa? Qui non c'è niente? Diavoletti! Vedete qualcosa qui? Aiutatemi! Voi avete più occhi di me? Sì! Perché ne siete tantissimi! Ok! Ma... No! Non c'è niente qui! Oh! Forse in piscina? Oh! Sì! Diavoletti! Controlliamo in piscina! C'è soltanto acqua qui! Uffa! Sarà molto difficile trovare la foto segreta di Cutnap! Ok! Foto segreta! Foto segreta! Dove sei? Oh! La foto non mi risponde! Perché le foto non parlano? Oh! Diavoletti! Non è che la foto segreta si nasconde nel lavandino? Eh sì! Lì c'è un lavandino! Andiamo a controllare! Tre! Due! Uno! Cosa? La foto segreta si nasconde nel lavandino! Ok! Prendiamo la foto segreta! Che ansia! Che ansia! Abbiamo trovato! La... Foto segreta di Cutnap! Guardate! E guardate la sua faccia! Oh! Wow! Ok! Abbiamo trovato anche la foto segreta! Oh! Cos'è questo suono? Ok! Ok! Abbiamo trovato la foto! Ma Cutnap è nella vita reale! Eh sì! Cutnap! Dove sei? Vinci Cutnap! Dai! Abbiamo superato la seconda sfida! Adesso dobbiamo passare... Alla terza sfida! Tre! Bevi la bevanda viola? Cosa? Una bevanda viola? Io non voglio trasformarmi in Cutnap! Io voglio salvare Vinci! Uffa! Uffa! Devo bere la bevanda viola di Cutnap? Ok, diavoletti! Dobbiamo superare tutte le sfide? Per far tornare Vinci un essere umano! Vi ricordate? Quindi dobbiamo bere la bevanda viola di Cutnap! Andiamo! Fra tre, due, uno... Oh! Ecco la bevanda tutta viola! Eh sì! Questa è la bevanda tutta viola di Cutnap! Guardate! È viola! Eh sì! È tutta viola! E noi dobbiamo berla! Speriamo che non mi succeda niente! Io devo salvare Vinci e basta! Oh! L'ho bevuta tutta! Diavoletti! Guardate! Ho bevuto tutta la bevanda viola! Non ho lasciato neanche una goccia! Mi sento un po' male! Ma non devo pensarci! Adesso devo soltanto... Salvare Vinci! Devo far tornare Vinci! Un essere umano! Oh no! Vinci Cutnap! Cosa ci fai qui? Dai! Devo fare tutte le sfide! Non puoi mangiarmi adesso! Dai! Vai via! È proprio qui! È qui! Davanti ai miei occhi! Oh! Vinci Cutnap! Ciao! Eeeh! Che ansia! Dai! Vai via! Non puoi mangiarmi adesso! Non puoi! Anche se non ti ricordi di me! Oh! 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 Ok! Ok! Ciao ciao Vinci Cutnap! Ci vediamo dopo! Io devo salvarti! Ok! Vediamo! Oh! C'è un ultimo foglio qui dentro! Ok diavoletti! Nella scatola di Cutnap c'è un ultimo foglio! Secondo voi? Dobbiamo fare l'ultima sfida? Eh sì! Dobbiamo fare l'ultima sfida perché devo salvare Vinci! Ok! Ok! Quattro! Colora Cutnap! Sbrigati! Devo colorare Cutnap? Ok! Devo sbrigarmi! L'ha detto il foglio! Questa è l'ultima sfida! Guardate! Qui c'è! C'è un disegno di Cutnap! Ed è completamente vuoto! Senza colori! Oh no! Io devo colorarlo? Ok! Qui abbiamo tantissimi colori! Guardate! Viola! Giallo! Grigio! Nero! Oh! Oh no no no! Ok! Non devo impasticciarmi! Devo subito colorare questo disegno! Così salveremo Vinci! Non devo iniziare a piangere! Devo... Devo colorare! Eh sì! Dai! Iniziamo a prendere i pennarelli e iniziamo a colorare! Dai diavoletti! Non vedo l'ora di salvare Vinci! E voi? Ah ah! Dai! Dai! Prendiamo subito un viola chiaro e iniziamo a colorare! Dai! Iniziamo a colorare diavoletti! Adesso vedrete questo disegno completamente colorato! Ah ah ah! Ok! Dai dai diavoletti! Dobbiamo sbrigarci! Oh che ansia! Che ansia! Non devo sbagliare! Non posso sbagliare! Sennò succede qualcosa di molto brutto! Guardate! Oh oh oh! Diavoletti! Sto colorando! E non devo sbagliare! Oh che bello colorare! Che bello colorare! Ok! Dai! Sbrigiamoci più veloci! Più veloci! Ok! Che ansia! Che ansia! Non devo sbagliare! Ok! Adesso questa parte! Oh oh oh! Ah ah ah! Ok! Adesso guardate questa luna! Questa luna è... Oh! Perché? Perché non si apre? Ecco fatto! Questa luna è gialla! Quindi adesso coloriamo questa luna! Guardate che bello il colore giallo! Sapete che è il mio colore preferito! Ah ah ah! Dobbiamo sbrigarci! Dobbiamo sbrigarci! Secondo voi riuscirò a finire questo disegno? Ok! Devo colorare molto bene! Devo colorare molto bene! Adesso le mani di Cutnap! Guardate! Sto colorando le mani di Cutnap! Con un viola più scuro! Ok! Le mani sono quasi pronte! Ecco fatto! Wow! Che bello! Sta venendo benissimo vero? Dai! Dopo mi date un voto! Ah ah ah! Che bello che bello! Le mani! Ok! Le mani! Ecco fatto! Adesso i piedi! I piedi! Oh oh oh! Ok! Guardate! È quasi pronto! Che bello questo disegno! Oh! Adesso manca la coda! E la faccia! Devo sbrigarmi! Oh no! Oh no! Devo superare questa sfida! Devo superare questa sfida! Ok! Sto colorando la coda! Sto colorando la coda! Oh! Ecco fatto! Ho colorato questa parte! E adesso con un viola più scuro! Questa parte! Dai! Dobbiamo sbrigarci! Dobbiamo sbrigarci! Cutnap ha una coda super gigante! Mi manca moltissimo Vinci! Mi manca veramente molto! E a voi? Oh! Non vedo l'ora di vedere Vinci di nuovo! Oh! E ho finito la coda! Wow! Adesso mi manca la faccia! Dai! Sbrigiamoci! La faccia di... Cutnap! Ok! Ma perché Vinci stava vedendo foto di Cutnap oggi? Dai! Sbrigiamoci! Sbrigiamoci! Coloriamo la faccia di Cutnap! Sbrigiamoci senza sbagliare! E abbiamo quasi fatto! Dai! Senza ansia! Non preoccuparti Anto! Adesso salverai Vinci! Hai superato quasi tutte le sfide! Niente ti fermerà! Ah! Come una saetta! Dai! Sbrigiamoci! Oh! Ce l'ho quasi fatta! Ce l'ho quasi fatta! Diavoletti! Guardate! Oh! Ok! Wow! Sono velocissimo! Dai! Sbrigiamoci! Sbrigiamoci le orecchie! Diavoletti! Mancano le orecchie di Cutnap! Eh? Ho quasi completato il mio disegno! Oh! C'è anche la lingua! C'è anche la lingua! Non devo dimenticare niente! Dai! Sbrigiamoci! Le orecchie! Qui con un viola più scuro! Eh sì! Dobbiamo ricordarci tutti i dettagli! Ok! E adesso qui con un altro viola più scuro! Orecchie completate! Evviva! Ma adesso manca la lingua! Guardate! Manca la lingua di Cutnap! Ok! Con questo colore noi coloreremo la lingua! Che bello! Diavoletti! Dai! Sbrigiamoci! Sbrigiamoci! Sto colorando la lingua! Ok! Ecco fatto! Wow! Che bello questo disegno! Wow! Questo disegno è super bellissimo! Diavoletti? Ma dov'è Vinci? Perché Vinci non torna qui? Ok! Diavoletti sul disegno! Wow! Come per magia! È uscito questo segno! E significa corretto! Quindi il mio disegno è corretto! L'ho colorato molto bene! Eh sì! È proprio Cutnap! E l'ho colorato benissimo! Ma... Vinci! Dove sei? Vinci! Oh no! Oh no! Anche il nostro cagnolino è molto triste! Vinci Cutnap! Dove sei? Oh! Oh no! Oh no! È davanti alla telecamera! Ciao Cutnap! Cutnap come stai? Vinci sei tu! Vinci! Non ci posso credere! Cutnap mi ha fatto qualcosa di molto brutto! Grazie per avermi salvato! Oh Vinci farai di tutto per te! Vinci sei tu di nuovo! Vi è piaciuto questo salvataggio? Commentate qui sotto! È stato molto difficile! Ma finalmente adesso Vinci è un essere umano! Buon anno! Vi è piaciuto questo salvatabile! Buon anno! Villi è piaciuto questo salvatabile! Vi è piaciuto questo salvatario! Gabriele!